ciao a tutti in questo video vi volevo mostrare solamente il comportamento del samsung s27d 850 t durante il gameplay ho solo due giochi grid auto sport e crisis 3 quindi proveremo questi due game ovviamente il succo non è far vedere le mie prestazioni a livello di gioco perché sono veramente molto molto scherzi pass a pass ok ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.